Un presidio con raccolta firme davanti al distretto sanitario di Tornimparte a Rocca Santo Stefano per chiedere il potenziamento del presidio ma anche per denunciare le difficoltà che vivono ogni giorno utenti e operatori con carenza di personale e una linea internet assolutamente inadeguata ai servizi che il più delle volte peraltro non funziona. Una battaglia che il sindaco Giacomo Carnicelli porta avanti da anni, sostenuto ora con forza da Marcello Vivarelli, segretario di categoria Fesica Confsal della provincia dell'Aquila. Il presidio serve un bacino di utenza di circa 12.000 persone. Mentre si parla di medicina del territorio non viene potenziato un distretto essenziale che serve anche molti anziani che non possono spostarsi. Ciò che si chiede è anche di internalizzare i lavoratori e aumentarne il numero. Il problema di questo distretto è che oggi c'è un'assenza di rete internet e quindi i servizi vanno molto ma molto a rilento e quindi anche l'utenza soprattutto anziani sono costretti a trasferirsi all'Aquila o nei distretti di prossimità che secondo me non ci sono. Basterebbe un po' di buona volontà secondo me perché avere una struttura così e poi non farla funzionare o funzionare male è controproducente per tutti. Io sono vicino all'amministrazione comunale che il sindaco è da tanto tempo che chiede, ha provato anche a dare soluzioni ma ha trovato sempre un portone chiuso. Non capiamo il motivo di questo. In tutto questo c'è da dire che il comune ha appena installato il wifi in diversi punti del territorio e anche al distretto ma non basta. Il problema della connessione è il primo da risolvere ma le risposte della ASL finora sono state incomprensibili per il sindaco Carnicelli. Per loro non è interruzione di pubblico servizio perché ci si può spostare all'exompi ma Carnicelli ribatte che se c'è un presidio va fatto funzionare sul posto. L'ASL si giustifica rispetto alla nostra contestazione di interruzione di pubblico servizio dicendo che il servizio è garantito presso il cup dell'exompi. Questo è quello che preoccupa fondamentalmente perché se passa l'idea che io il servizio lo do in una vasta area è un principio fondamentalmente sbagliato, è una logica perdente che porterà alla desertificazione delle aree più periferiche rispetto alla città e come siamo noi perché i servizi vanno dati sul territorio.